Bella a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video Oggi siamo qui su una nuova serie di Minecraft E in questo primo video vi mostrerò come creare la spada E tutto il resto, diciamo, cioè la spada piccone L'ascia, cominciando da zero ovviamente Perché io ce l'ho già anche in oro e in diamante Però ve lo farò vedere cominciando Madonna! Che fortuna! Che fortuna! Ok, apriamo tutto adesso Io ho, mi sono fatto Niente, fantastico Ecco, mettiamo così va Ecco, vedete, io adesso già ho la spada di Cioè ho già la pala in mano Ho anche il piccone o tutto, diciamo Però adesso ve lo farò vedere partendo da zero, diciamo Allora, quindi tutto Facciamo che, ecco, io in realtà non sto partendo da zero Però Mi metto via questo e via Ok, partendo da zero Quindi metterò tutto via Intanto stop il video Ci vediamo tra poco Vai Ok ragazzi, siamo tornati Adesso vi farò vedere come crearlo Prima di tutto avrete bisogno di un po' di legna Quindi Andiamo a prendere qua che c'è Mi è piacere Mi serviranno quattro pezzi di legna Per la procedura Anzi, forse un po' di più Vabbè, poi decidete come volerlo prendere Diciamo, no? Ok, vai, spacchiamo Spacchiamo tutto Spacca, spacca, spacca Ok, la succhiera di 5 pezzi va benissimo Quindi poi andate qua su questo Cliccando X su Xbox 360 E mentre vi pare quadrato una cosa del genere Forse è ancora X Su Xbox 360 C'è su PlayStation 3 E vi create il tavolo da lavoro Che sarebbe questo Poi lo piazzate E ci cliccate sopra per attivarlo Infatti dopo avrete già tutte le armi che potete crearne Quindi create dei bastoncini E qualcosa del genere Infatti, guardate già Lo faccio così, ne creo molti E vedete, piccola, piccola Tutti Cioè, che si vedono meglio, no? Quindi cominciate Vabbè, poi fate tutto Ok ragazzi, siamo tornati Qui ho già fatto la piccozza Adesso vi mostrerò Anche un attimino dove io Dove si può scavare Vabbè Tocca, scaviamo questo, questo Vedete, si può scavare comunque Anche faccio il cliente Se invece provate a non usare la piccozza Ma questo qua ci metterete molto di più, vedete E non vi darà neanche la cosa Invece così, sì Ok ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito lasciate un commento E un mi piace E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao